Una fortezza nella fortezza. Seijuro! Il nostro popolo sta morendo! Getto le armi! Allora arredditi e inchinati a me. Seijuro non mollava. E aveva grandi guerrieri dalla sua parte. Ma noi eravamo di più. Dovevamo solo entrare. Non entravo nel palazzo da tre anni ormai. Da quando l'imperatore mi aveva fatto imprigionare. Miei guerrieri! Ma non serviremo mai un palazzo da tre anni. Moriremo da guerrieri. Ci sono molti modi per vincere un assedio. Abbattere le porte. Scalare le mura. Affamare gli occupanti. Oppure... Conoscere un'entrata segreta. E farla usare al... Mure di carta. L'acciaio non li teme. E farla usare a... Eparup conti. Eparup conti. Eparup conti. Esatia! Ci sono un'entrata segreta! C'è per il centro. C'è per il centro. Eparup conti. C'è per il centro. Acidato. andiamo solo i guerrieri più fedeli avevano risposto al richiamo di Seijuro bastava una sua parola e sarebbero morti per lui eccolo il prezzo dell'unità Seijuro aveva con sé i guerrieri migliori ci serviva la stessa forza ci sono i guerrieri di Seijuro ci serviva ci serviva ci serviva solo il meglio per l'imperatore l'esercito è dall'altra parte non credo sia una buona idea le porte andavano aperte in qualche modo e io avevo un elefante non credo Una pessima idea Una pessima idea Una pessima idea Una pessima idea Devo stargli lontano Una pessima idea Siamo troppi per voi Abbassate le armi Trovate Sejuro Non fermatevi! Sejuro deve essere vicino! Una pessima idea Dove è Sejuro? Stavano morendo in troppi Dovevamo trovare Sejuro Un'altra pessima idea Un'altra pessima idea Sejuro doveva essere vicino Trovate il daimyo Va bene C'erano stati tantissimi morti E nessun vero nemico Un'altra pessima idea 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 Uccidimi! Verrò ricordato come il più grande guerriero che il nostro popolo abbia mai avuto. Questi guerrieri non ti obbediranno mai. Sarai dimenticato. Il campione dell'imperatore ti sconfiggerà. Il campione dell'imperatore è in prigione a marcire in una cella. Sei tu! Il campione! Il traditore! Vuoi dire l'eroe? Sei giuro era uno dei samurai più forti mai esistiti. Io invece ero rimasto in una cella per tre anni. La tua leggenda è una menzogna. Le storie narreranno della tua sconfitta. Il vecchio imperatore era debole. Io no. Non dobbiamo combattere fra di noi. La prigione non ha intaccato la tua abilità? Hai fatto male a finire qui. Che stai aspettando? Ci serve un comandante, se giuro. Così mi disonori. Ci serve un grande guerriero. Non ti servirò mai. Allora uccidimi. Prendi il mio posto. Guida i nostri eserciti. Sei davvero folle. Il nemico è Apollion. Non, se giuro. Io non combatterò una guerra per la legione. Il campione dell'imperatore guida di nuovo le truppe. Andrò ad Ashfeld. Il nostro nemico è là. Il nostro nemico è vero.